Voi la verità? Per me se vai da un psicologo puoi vedere un briaco sul tavolo, di sera. Vabbè, che cazzo vuol dire come stai? Umbriaco? Sì, quelle cose ti attaccano, sai. E avevo finito queste cose, e non ti puoi fumare i squali. Merda, ma questa è acqua. A Roma devi stare attento a pia le spade. E sti cazzi perché quando fumi stai bene, eh. Dopo forse stai fatto come stai. Poi tutta la vita è così, se volevo guidare. Me se ho scolato 90.000 cose. O massimo a st'ambriaco, o valla a fare il fumo, sì. Manco una una fatta. E se smetti col fumo, stai sempre più male. Non ce provà, così non te ne frega più un cazzo da pia sti cosi. Anzi, se te devo dire una cosa, ma fumo il fumo. Taci tua se vede, eh, eh, bra.